E' stata reintegrata la vigilessa Teramana che denunciò il comandante della Polizia Municipale di Teramo per molesti a scopo sessuale. Alla denuncia il comandante Franco Zaina rispose con una controdenuncia per calunnia, la cui udienza ci sarà domani mattina. Una udienza del giudizio abbreviato in cui la dipendente comunque deve rispondere per calunnia. Una notizia, quella del reintegro sul posto di lavoro di Anna Capponi, che il comandante Zaina ha preso dalla stampa. Come la maggior parte delle persone ha saputo la notizia dalle testate giornalistiche e da alcuni siti, quindi sto in attesa di comunicazioni formali. Io sono abbastanza sereno e confinto nell'attività della magistratura. Fortunatamente quel giorno io non ero a lavorare, ero in ospedale a togliermi un neo, quindi non ho paura di tutte le evoluzioni che si avranno in futuro. Comandante, se dovesse essere effettivamente reintegrata, la troverà poi in ufficio ogni mattina? Ma non lo so, queste sono decisioni che non dipendono da me. Comunque se dovesse essere, il mio comportamento nei confronti della dipendente sarà come quello di tutti gli altri. Secondo quanto motivato dal giudice, la dipendente comunale fu vittima di un atteggiamento ritorsivo in considerazione dell'ambiente e del clima in cui venne adottato ed in quanto riconducibile all'iniziativa giudiziaria con cui aveva denunciato gravi fatti all'interno del comando della Polizia Municipale. La Capponi, nonostante l'archiviazione del procedimento da lei provocato e in attesa anche dell'udienza preliminare dinanzi al GIP di Teramo, prevista per domani, non ha mai smesso di lottare per riavere il suo posto di lavoro.